Ritorna il 31 ottobre al Corso di Sassari, il progetto di storytelling, racconti erranti, con Su Mortu Mortu, il nostro Halloween, evento giunto alla terza edizione ed è auto-organizzato all'associazione Tusitala con la direzione artistica di Monica De Murtas. L'iniziativa promossa dai commercianti del Corso è stata realizzata con il patrocino del Comune di Sassari e la collaborazione di numerose realtà culturali e commerciali che operano nel centro storico. Tra queste la Scuola di Teatro delle Atrici Daniela Cossiga e Antonella Masala che hanno preparato i giovani artisti in scena, la Bottle Cilindro che da 30 anni coltiva la passione per il teatro, il moderno Cityplex, luogo simbolo della cultura e dell'intrattenimento, e la ditta Scenosis che darà un tocco noir alla serata con effetti scenici. A partire dalle 17 i bambini si trasformeranno in mostri, zombie e fantasmi e andranno in giro per il Corso chiedendo ai commercianti Su Mortu Mortu e Is Animeddas, ovvero un'offerta dolce per le anime dei defunti. Scenografie e giochi di luce trasformeranno le vetrine dei negozi in tanti piccoli palcoscenici e l'intera strada per l'occasione chiusa al traffico in un set cinematografico perfetto per l'arrivo degli ospiti d'onore della serata. La dama nera, la sposa cadavere e lo zombie motociclista, già apprezzati dal pubblico nella passata edizione. Per vivere al meglio l'atmosfera, anche il pubblico potrà trasformarsi in una creatura della notte grazie ad una professionista del make-up che sarà operativa nei locali della panetteria Rebecca. Al termine della serata, tutti i performers si uniranno in una sfilata che li vedrà procedere lungo il corso per proseguire fino al Cityplex. Gran finale per tutti i mostri con la maratona horror programmata nella multisala a partire dalle 22. La maschera più mostruosa sarà premiata con due biglietti omaggio per il moderno e altri premi pensati per i più piccoli.